Un saluto da dottor Palmas, ti mostro un altro caso risolto, denti fissi con sistema bocca bionica, un paziente che partiva con una situazione disastrosa. Immagina che rapporti sociali poteva avere una persona con una bocca in queste condizioni, uno stadio di malattia terminale, parodontale, sembra una persona malata con questi denti e di fatto era una situazione malata, quella che ci siamo trovati davanti. I denti erano in ultimo stadio, in espulsione, tartaro attaccato alle radici rimaste. Quando abbiamo fatto l'RX ci siamo resi conto che c'erano delle infezioni abbastanza importanti, seno macellare pieno di infezione, abbiamo rimosso tutte le radici e posizionato dei denti provvisori. Quelli che vedi non sono ancora i denti definitivi, ma la situazione è cambiata drasticamente. Questa era la situazione di partenza, questi invece i denti già provvisori. La vita del paziente già inizia a cambiare dopo la prima chirurgia, il percorso è ancora lungo, dobbiamo ancora fare i test dei denti definitivi. Questo è l'intervento che è stato eseguito, abbiamo posizionato impianti nelle zone interiore e anche nella parte posteriore, su di questi abbiamo montato subito dopo l'intervento i denti provvisori. Il paziente a questo punto si è sottoposto a un design dei denti definitivi, abbiamo ipotizzato le forme che avremmo voluto ricreare, il paziente le ha provate e a quel punto abbiamo creato le arcate definitive. Quelli che vedi qua sono dei capolavori della produzione digitale e robotizzata dei nostri dipartimenti, della nostra divisione ricerca e sviluppo. La linea superior è la linea più avanzata al mondo, sono dei denti che vengono creati partendo da denti reali che vengono scansionati. Le gengive hanno un tocco di iperrealismo dato dalla miscelazione di compositi rosa pallido, rossa scuro e soprattutto la superficie viene lavorata per dare poi questo aspetto naturale. I denti non sono mai lisci, hanno una texture, si chiama, una superficie particolare che riflette la luce in maniera tale che definisca le singole forme dei singoli denti. I denti montati in bocca hanno poi con la saliva un effetto naturale. Queste come appaiono le due arcate all'interno delle due arcate, sono state avvitate sopra gli impianti, vengono riempite le zone laterali del sorriso con dei denti molto pronunciati e visibili, durante l'atto del sorriso, i denti centrali molto dominanti e infine una coppia digitale dei denti in cloud salva il risultato ottenuto. Quindi in futuro se dovesse essercene bisogno potremo andare a ripetere il lavoro con i nostri robot, andare a ricreare i singoli denti che dovrebbero essere avere dei problemi. Questo è il risultato scioccante, diciamo che la situazione di partenza era veramente grave e abbiamo cambiato la vita a questo paziente. Tra l'altro pare che abbia preso anche qualche chilo, sicuramente si sta alimentando in maniera corretta, oltre ad avere comunque sul viso i migliori denti che possano essere prodotti al giorno d'oggi. Grazie. Grazie.